Abbiamo visto nella unità didattica precedente che l'algoritmo di ricerca ASTAR è completo, cioè se c'è una soluzione o un percorso lo trova, e è anche sotto condizioni abbastanza facili da verificare, cioè che l'uristica sia ammissibile e monotonica e anche ottimale, cioè trova la soluzione ottimale. Entrambe queste proprietà ce le avevano in realtà anche la Uniform Cost Search, cioè la completezza e l'ottimalità. Il vantaggio ovviamente di ASTAR rispetto alla Uniform Cost Search è che l'efficienza di ASTAR grazie all'uso dell'uristica è maggiore. Cosa significa questo? Come abbiamo visto significa che man mano che la ricerca procede, il branching factor grazie all'effetto dell'euristica diventa sempre più piccolo e si orienta la ricerca in maniera decisa, più o meno decisa, verso la ricerca, verso la soluzione ottima. Nonostante questo notevole miglioramento, che fa sì che ASTAR ovviamente laddove c'è un'euristica con quelle proprietà lì sia assolutamente da utilizzare rispetto all'Uniform Cost Search. Possiamo tranquillamente dire che purtroppo la complessità dell'algoritmo rimane comunque in qualche maniera esponenziale. L'analisi precisa della complessità, sia temporale che spaziale, esce, è molto sofisticata e dipende comunque un'analisi in dettagliata, la complessità dipende anche dalla natura dello spazio degli stati e quindi in qualche maniera l'analisi è specifica e quindi esce dagli scopi di questo corso introduttivo sull'intelligenza artificiale. Ma possiamo comunque dire che il problema dell'esponenzialità rimane. Abbiamo un branching factor B che è un po' meglio, che migliora, però abbiamo sempre un comportamento esponenziale. Allora dunque questa unità di dati che adesso sarà proprio dedicata a capire come si può cercare di trattare il problema della complessità esponenziale, sia temporale che spaziale. Ma quale delle due è più importante e quale delle due è peggiore? Beh, allora abbiamo detto che l'algoritmo ASTAR sostanzialmente è una specie di ricerche in ampiezza, come un po' la Uniform Cost Search, che però procede invece che per livelli generazionali procede per livelli migliorativi della funzione di valutazione. Ora, quale delle due complessità temporale e spaziale è peggiore? Beh, non è che sia forse meno peggio, però chiaramente possiamo dire questo, che essendo la quantità di RAM a disposizione limitata, mentre invece il tempo in generale per o meno è stato per tanti anni così nell'intelligenza artificiale, cioè gli algoritmi dell'intelligenza artificiale hanno un po' ignorato il tempo reale, cosiddetto, cioè la predecibilità del tempo di esecuzione di un certo algoritmo, cioè ci si è sempre orientati a ritenere più importante migliorare il comportamento dell'algoritmo per quanto riguarda l'occupazione della RAM, cioè dello spazio, piuttosto che del tempo. Quindi gli algoritmi che stiamo per vedere sostanzialmente cercano di barattare tempo per guadagnare spazio, cioè pur di ridurre l'occupazione della RAM sono disposti a impiegare un po' più tempo nella ricerca della soluzione oppure addirittura barattare la completezza. Chiaramente almeno a questo livello, poi in realtà nel successivo modulo vedremo che faremo ampiamente uso per scopi realistici del barattamento della completezza, però in questo modulo qui ancora stiamo diciamo abbastanza puntati sulla completezza, per cui sostanzialmente gli algoritmi che vedremo cercheranno di barattare appunto tempo, però tempo poco ovviamente, un po' di tempo per guadagnare molto in spazio. Quindi sostanzialmente gli algoritmi che stiamo per vedere sono uno, il primo, il brim search, non lo vediamo neanche perché è talmente semplice come il concetto, è un modo per guadagnare la completezza, per guadagnare l'efficienza a questo punto sia spaziale che temporale. Poi invece i successivi tre che vediamo, cioè la iterated deepening a star e la ricerca best first ricorsiva, nonché la successiva a star con memoria limitata, tutti e tre questi approcci sono, che vedremo più o meno approfonditamente, cioè poco approfonditamente, ma insomma li vediamo qui, sono tutti e tre modi per ridurre l'occupazione della memoria. In realtà ultimamente ci si è anche appunto, da quando l'intelligenza artificiale sta cercando anche di incontrare le esigenze del tempo reale, si è sviluppato anche un altro approccio, un real time a star che baratta ovviamente l'ottimalità, ovviamente lo baratta, cioè sostanzialmente è un algoritmo che tiene conto del tempo rimasto a disposizione e in maniera razionale pota l'albero di ricerca in funzione del tempo rimasto. Però questo algoritmo qui non lo vediamo in questa sezione. quindi quello che vedremo sono il primo iTrade Deepening a star e poi la ricerca best first ricorsiva e poi la simplified memory limited a star. Partiamo quindi con la bin search, il concetto è molto semplice, ad ogni passo si limita la frontiera ai soli K nodi più promettenti, dove K è chiamata ampiezza di raggio. Ovviamente questo modo di sviluppare la ricerca di a star, come anche di qualunque altra ricerca, non è completo ovviamente. Però potrebbe essere una soluzione, è una soluzione un po' drastica. Vediamo invece la ITrade Deepening a star. Sostanzialmente l'idea è quella che vi ho già visto nel modulo precedente, quando con l'Itrade Deepening Search si è andata a utilizzare la ricerca depth first, che come sappiamo ha un'occupazione di memoria lineare, per simulare una breadth first search. ricorderete, in pratica si trattava di procedere per livelli generazionali successivi, utilizzando il limite del livello generazionale, nel limite del livello generazionale utilizzando la depth first in maniera completa. Quindi qui al concetto di espansione generazionale sostituiamo con la star il concetto di espansione per F-contour, cioè per limiti, contorni di valutazione. Quindi il concetto è quello che noi implementiamo la ricerca in depth first. Però utilizziamo come limite, non nel livello generazionale, ma un certo livello della funzione di valutazione F. Se troviamo la ricerca, ok, altrimenti aumentiamo F e ripartiamo, ripetendo la ricerca in depth first, esattamente come facevamo con l'Itrade Deepening Search nel modulo precedente. Come stabilire gli F-limiti? Inizialmente si parte dal nodo start e si va a prendere il valore della funzione di valutazione per il nodo start, si generano tutti i successori del nodo, si registra a questo punto il più piccolo successore del nodo che ha un valore superiore per quanto riguarda la funzione di valutazione e si ripete in questo modo tutto il procedimento, quindi da capo, si fa la ricerca in depth first e con questo nuovo limite al posto di quello precedente. Quindi questo modo di lavorare, ideato da Corfo nel 1985, sostanzialmente combina l'Itrade Deepening Search. Ripeto, da ogni iterazione il nuovo valore di taglio è l'F-minim fra tutti quelli che hanno superato il valore di taglio nell'iterazione precedente. Possiamo dire che la ricerca di Astar è completa e ottimale. In realtà potrebbe non trovare la soluzione ottimale nel caso in cui la funzione di valutazione non fosse monotonica. Come sappiamo per poter utilizzare Astar è sufficiente che sia accessibile, non è necessario che sia monotonica. Qui se non è monotonica con l'Idiastare possiamo rischiare di trovare una soluzione subottima, ma lo vediamo a un più tardi. Ovviamente il vantaggio importante dell'Idiastare è che ha un'occupazione di memoria lineare perché è implementata mediante una ricerca in profondità e quindi avrà problemi come vedremo anche come abbiamo già visto nell'Itrade Deepening Search nel caso in cui i valori siano espressi e nelle F siano espressi da valori reali. Vediamo la simulazione, subito da partire da questo nodo che ha una funzione di costo ovviamente 0 perché stiamo partendo dal nodo radice e ha una funzione uneuristica 3. A questo punto questo è il nodo iniziale, automaticamente viene preso 3 il valore di soglia della ricerca quindi parte la ricerca in profondità e viene generato questo successore con 1,2 e quindi andava bene si va quindi oltre perché 3 è minore o uguale a 3, si va oltre e si sviluppano i suoi successori in profondità quindi si sviluppa questo qui che ha 2 più 3, 2 più 3, 5 quindi è superiore a 3, ci si ferma si torna indietro, quindi si sta sempre in profondità, quest'altro successore 2 più 3 maggiore 5 si ferma non ci sono altri successori. Quindi a questo punto il nuovo valore di soglia sarà il minore fra 5 e 5, cioè 5 quindi riparte tutto il procedimento, a questo punto si genera in profondità il successore 1,4 che prima non era possibile generare perché aveva un valore di soglia superiore a 3 e abbiamo sostanzialmente, che si va sempre in profondità, 1,4 quindi 1,4,5, minore o uguale a 5 va bene si genera questo successore, 2 più 5 ci si ferma e così via quindi si sviluppa quest'albero che vedete. A questo punto come vedete in tutte le foglie dell'albero abbiamo un valore di funzione di votazione maggiore di 5, è per quello che si è affermato lo sviluppo e questo valore è sempre 7, si vede qui e quindi si prende come nuovo valore di soglia il valore 7 e si riprete tutta l'operazione. Come vedete in realtà in questa iterazione qui una parte dell'albero che si era sviluppato precedentemente non c'è più ma semplicemente perché la ricerca è andata in profondità e a un certo punto si è trovato, come vedete qui la funzione euristica è 0, questo nodo qui ha una funzione di costo 7 0 siamo riusciti entro il limite 7 a trovare la soluzione e quindi non è stata sviluppata la restante parte dell'albero questo percorso qui rappresenta la soluzione ottima nel caso in cui la funzione di valutazione è una funzione di valutazione monotonica questo perché essendo una ricerca questa in profondità appunto potevano esserci qui nella parte dell'albero delle soluzioni migliori di questa qui se solo nel caso in cui la funzione di valutazione potesse aver avuto una caratteristica di non monotonicità quindi in pratica la idea star ha buone performance ripeto, il valore suo importante è quello di avere un'occupazione lineare della memoria per quanto riguarda il tempo dipende dipende da quanto è infine la grana della funzione di valutazione cioè prima abbiamo visto che siamo passati da 3 a 5 e da 5 a 7 ma se per esempio da 3 fossimo passati a 3.1 e poi a 3.2 e poi a 3.3 avremmo avuto un numero di iterazioni molto grande quindi se la grana della funzione di valutazione è grossa i vantaggi ci sono se la grana è fine i vantaggi, cioè l'occupazione di tempo potrebbe essere veramente importante diventa veramente molto importante al punto tale che possiamo dire che non può essere utilizzata idea star nel caso in cui f è espressa con valori invece che discreti con valori reali e poi c'è il problema che ho detto prima cioè è importante per poter garantire l'ottimalità della soluzione trovata che la funzione di valutazione sia non monotonica un altro approccio che vediamo è la ricerca best first ricorsiva dunque in pratica è un'occupazione di Astar si tratta di utilizzare sempre Astar però potando, tenendo sempre in memoria solamente il percorso che si sta sviluppando tagliando, quindi togliendo dalla RAM i percorsi che si sono potati lasciando però, aggiornando il genitore del percorso potato aggiornando un punteggio di questo genitore in modo tale da eventualmente tornare a quel genitore e rispanderlo di nuovo qualora la ricerca, il RAM che si sta sviluppando in quel momento presenta dei costi maggiori di quelli che si è potato vediamo direttamente l'esempio si parte dal nodo radice il nodo radice dobbiamo per forza passare da lì non ha alternative quindi il suo competitor andare da un'altra parte avrebbe un costo infinito significherebbe non andare alla soluzione quindi mettiamo qui in alto che il suo competitor ha un costo infinito dopo di che si sviluppa appunto il nodo radice e si generano i tre figli Sibiu, Timisoara e Zerind con Timisoara 447 divozione e valutazione Zerind 449 Sibiu 393 e lo segniamo qui di lato dopo di che Astar espande Sibiu però prima di andare a espandere Sibiu si memorizza associato a Sibiu e il valore della migliore alternativa presente su Sibiu la migliore alternativa è quella di Timisoara che ha 447 quindi teniamo presente espandendo Sibiu che eventualmente si potrebbe espandere anche la sua migliore alternativa che avrebbe punteggio 447 solo la sua migliore alternativa non c'è bisogno di ricordarsi che è la seconda migliore alternativa che sarebbe Zerind dunque quindi si espande Sibiu questi sono i figli di Sibiu con le rispettive funzioni di valutazione per Riminicovilcea abbiamo 413 e quindi andiamo a espandere con Astar Riminicovilcea di nuovo associando a Riminicovilcea la migliore alternativa che è Fagras e quindi 415 sarebbe la migliore alternativa rispetto a Riminicovilcea si espande a Riminicovilcea che genera Crayova, Pitesti, Sibiu e a questo punto che cosa vediamo che il miglior figlio di Riminicovilcea secondo Astar e Pitesti che c'è 417 che è maggiore di 415 415 sarebbe la migliore alternativa di Riminicovilcea associata a Fagras e come sappiamo a questo punto Astar smette di sviluppare Ard, Sibiu, Riminicovilcea, Pitesti e passa a sviluppare Ard, Sibiu, Fagras ma mentre Astar mantiene in memoria sia Crayova che Pitesti che Sibiu e la Recursive Best of First Search li taglia quindi espande Fagras che aveva 415 e taglia Craiova Pitesti e Sibiu associando però a Riminicovilcea non più il valore 413 ma il valore 417 che è il migliore dei suoi figli e si associa anche a Fagras come migliore alternativa la migliore alternativa appunto che è presente sulla lista di Noi di Frontiere che è appunto quello che abbiamo appena tagliato Riminicovilcea ma solo casualmente poteva anche essere Satatimicioara la migliore alternativa ok quindi a questo punto espandiamo Fagras quindi abbiamo Sibiu e Bucharest e cosa succede che tutti e due i figli di Fagras hanno un valore della funzione di votazione maggiore della migliore alternativa di Fagras che è 417 e che è associata a Riminicovilcea per cui a questo punto come sappiamo Astar torna a sviluppare questo ramo qui e lo farà anche RBFS ma RBFS taglierà Sibiu e Bucharest taglia Sibiu e Bucharest e il valore di Bucharest è 450 e viene associato a Fagras al posto di 415 che era quello su originario a questo punto viene riespanso Riminicovilcea che Riminicovilcea essendo questo qui 450 avrà come migliore alternativa Timichuara 447 e quindi si espande anche P-Test che avrà anche lui come migliore alternativa 447 però a questo punto l'algoritmo termina perché espandendo P-Test si trova a Bucharest che è effettivamente il nodo che a questo punto bisogna espandere perché ha 418 che è quello minore di tutti e quindi si va a espandere e si trova che il gol e l'algoritmo termina in pratica come avete visto qui si è trattato di tenere sempre in memoria solo il percorso che si sta svolpando in quel momento e quindi questo modo di procedere garantisce un utilizzo della memoria lineare quindi quello che questo algoritmo è stato sviluppato circa 8 anni dopo quello precedente e abbiamo che se F piccolo è il valore della funzione di valutazione normale con F grande rappresenta il costo parziale minimo attualmente conosciuto dal percorso passante perenne e questo costo è pari a F piccolo se N non è stato espanso altrimenti è pari al minore dei costi parziali minimo dei suoi successori se F piccolo N è sopra il valore del miglior percorso alternativo l'espansione riparte da quell'albero potato e si aggiornano tutti gli F grande per i nodi lungo il percorso come abbiamo visto nell'esempio allora cosa dire questo approccio qui non ha i problemi che abbiamo denunciato per idea star e quindi rappresenta per certi versi una soluzione probabilmente migliore ovviamente anche qui l'uso di un algoritmo del primo del secondo che abbiamo visto dipende dall'analisi attenta del dominio applicativo e quindi in particolare dello spazio dei stati su cui stiamo lavorando della funzione di valutazione in particolare cioè dell'euristica però possiamo dire che entrambi hanno un limite che li accomuna e c'è quelli che ottengono un'occupazione di memoria lineare e questo è il grosso vantaggio però effettivamente l'occupazione lineare potrebbe anche essere esagerato nel senso che se noi abbiamo 4 giga di ram a disposizione e questa occupazione lineare il nostro problema ci fa occupare 4 mega di ram ecco se ci facciamo di tutta l'altra ram che non stiamo utilizzando voglio dire qui entrambi questi algoritmi hanno una grande premura di barattare tempo per guadagnare spazio usano fin troppo poca memoria quindi il concetto alternativo che è stato studiato per anni è quello invece di utilizzare la memoria fin quando questo è disponibile e quindi il meccanismo che abbiamo intervisto nella Recursive Best First Search cioè quello del taglio dello sviluppo del percorso dovrebbe essere fatto non quando si supera un certo valore che è quello del miglior percorso alternativo ma quando veramente la memoria sta per esaurire quindi il concetto è un concetto molto empirico è quello di utilizzare tutta la memoria disponibile sul sistema fisico su cui sta girando il software e ci sono vari algoritmi che appartengono a questa famiglia di memory bounded a star concettualmente noi vediamo il simplified il concetto l'algoritmo più semplice appartenente a questa famiglia e cioè il concetto è procedere a star normale fino all'esaurimento della memoria disponibile a questo punto si dimentica dal nodo dalla lista di frontiera il nodo con il peggior valore della funzione di valutazione dopo aver però aggiornato il valore del padre come abbiamo fatto prima nel nel recarsi best memory nel recarsi best search search e ecco questo è il concetto quindi si si utilizza star finché è possibile quando si vede che non è possibile con si utilizza si si butta via dalla frontiera il nodo peggiore ma non lo si butta via del tutto come farebbe una local una local beam cioè una beam search lo si butta ma si aggiorna e parte di quel nodo in maniera tale da eventualmente se dovesse servire si può ritornare a rispandere quel nodo a rigenerarlo di nuovo per eventualmente continuare a espanderlo questo modo di procedere è completo se la profondità della soluzione migliore non è maggiore della memoria disponibile ovviamente se stante questo limite abbiamo che il cammino della soluzione effettivamente sta nella memoria che abbiamo a disposizione questo approccio residirà sicuramente la soluzione ottima alternativamente per chiudere questo capitolo potremmo lavorare come cercherò di spiegare meglio nel successivo modulo didattico di nuovo rinunciando alla completezza lavorando a metodivello in pratica invece che fare ricerca nello spazio degli stati come abbiamo visto finora andiamo a fare ricerca su un altro spazio di stati di metodivello costituito dagli alberi stessi di ricerca questo è un concetto che vedremo meglio nel successivo modulo didattico ma che però è anche interessante perché ci introduce anche un altro concetto che vedremo molto più in là quando parleremo di apprendimento che è quello di per scopi molto pratici è quello di far frutto delle esperienze passate e quindi per ridurre la complessità della ricerca sia nel tempo che nello spazio a questo punto banalmente si può operare in questa maniera tanto per capire l'idea base su cui dopo gira tutti gli approcci misti che utilizziamo anche l'apprendimento una volta che un percorso da Arad a Bucharest ottimale si è trovato lo si memorizza mi è tale che si dovesse di nuovo cercare un percorso da Arad a Bucharest invece che rioccupare lo stesso tempo e la stessa memoria che è stata utilizzata in passato si va a ricercare dal cassetto della memoria della RAM il percorso già trovato in precedenza e lo si rioffre quindi a tempo questo punto un tempo costante costante in realtà lineare nel numero di percorsi che sono stati memorizzati quindi se il numero di percorsi che vengono memorizzati dall'esperienza passata diventa enorme a questo punto il guadagno in performance potrebbe essere relativo anche se poi abbiamo in realtà dei sistemi molto sofisticati di indicizzazione dei percorsi per cui effettivamente l'apprendimento è un modo per superare le problematiche di complessità sia nel tempo che dello spazio che degli algoritmi di ricerca bene con questo chiudiamo questa unità didattica la prossima sarà dedicata all'argomento importantissimo della scelta dell'individuazione del confronto fra le euristiche grazie a tutti